Allucinante Letta! Ascoltate cosa ha avuto il coraggio di dire, ascoltate! I giovani sono stati rinchiusi in casa, li abbiamo rinchiusi in casa, loro rischiavano molto poco dal punto di vista della pandemia e sono stati diligenti, bravi, noi abbiamo un credito su questo tema, i ragazzi hanno un credito su questo tema. I giovani sono stati rinchiusi in casa, anzi dice lui, li abbiamo rinchiusi in casa, anche se rischiavano molto poco dal punto di vista della pandemia, hanno un credito, riascoltatelo, i giovani sono stati rinchiusi in casa, le abbiamo rinchiusi in casa, loro rischiavano molto poco dal punto di vista della pandemia e sono stati diligenti, bravi, noi abbiamo un credito su questo tema. Ecco Letta, l'altra parte che non hai detto è che tu sei stato il loro credito, perché tu li hai rinchiusi in casa anche se non rischiavano molto per la pandemia, perché non sapevi come affrontare la pandemia, quindi se i giovani hanno un credito ed è vero, tu sei il debito.